Siamo sulle Madonie, nel Palermitano, due strade provinciali, la SP52 e la SP60, ormai divenute intransitabili, vedono adesso aperto un cantiere finanziato dal governo della regione siciliana. Abbiamo realizzato noi come governo musumeci questo intervento importante sostituendoci alla città metropolitana di Palermo perché non soltanto abbiamo finanziato questa opera ma l'abbiamo anche progettata, l'abbiamo appaltata, giudicata e oggi finalmente diamo l'avvio ai lavori. Grazie a tutti.